Bilancio prestigioso, quello di fine 2017 per l'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale dell'Abruzzo e il Molise di Teramo, che negli ultimi 12 mesi ha centrato obiettivi importanti come centro di referenza nazionale e mondiale per il benessere e sanità animale, per la sicurezza alimentare e per la tutela ambientale. Lo scorso anno l'IZS Caporale ha ottenuto 11.500.000 euro di finanziamenti statali, regionali ed internazionali per 112 progetti di ricerca e attività, che ne fanno una vera macchina da guerra per quanto riguarda la salvaguardia della salute umana e animale. Quali sono le vostre armi? Sono diverse, sono diverse, ma direi fondamentalmente la conoscenza, la rapidità, la competenza e uno sguardo lungo che travalica le frontiere e quindi l'idea è quella di guardare davvero il mondo nel suo insieme. Uno degli elementi che stanno diventando sempre più importanti è la capacità, quando dico guardare il mondo nel suo insieme, è di gestire i numeri, di gestire i dati. Noi abbiamo un compito fondamentale di gestore di dati, dati che riguardano l'anagrafe degli animali, la ricetta elettronica. Tutte le volte che un qualunque ente di ricerca fa una richiesta per fare sperimentazione passa dall'istituto, eccetera, eccetera. Quindi un'enorme massa di dati e la capacità di analizzarli rappresenta oggi la scommessa. E poi c'è il progetto urbanistico della Cittadella della Ricerca, che va a sostituire in parte la costruzione di una megagalattica nuova sede degli ZS di Teramo, prevista nel 2008 a Collaterrato. L'attuale management ha voluto infatti rimodulare quella progettazione, rendendola più aderente alle esigenze attuali, scegliendo di riqualificare la storica sede dell'istituto e di dislocare fuori del contesto urbano solo le strutture destinate ad ospitare animali vivi. 25 milioni che vengono dalla regione Abruzzo del famoso Masterplan abbiamo deciso di dividerli per una parte, già 7 milioni e mezzo, per realizzare una parte di quello che era la nuova sede dell'istituto zooprofilattico, ovviamente nella località di Collaterrato, dove vogliamo mettere tutto ciò che non può stare dentro una città come laboratori, stabulari, centri di ricerca particolari e utilizzare i restanti 7 milioni e mezzo per ristrutturare una parte storica di questo istituto non vecchia sede, diciamo così, che si trova al centro della città dove poter collocare nuovi laboratori.